Anche Rossano Veneto ha la sua prima casetta di quartiere. La struttura è stata inaugurata in quartiere Pesse con una grande festa durata due intere giornate alla quale non è voluta mancare il sindaco Morena Martini. Proprio il primo cittadino oggi e domani incontrerà la cittadinanza per illustrare agli abitanti di Rossano Veneto i progetti sulle future opere pubbliche e sulle strategie di bilancio. Questa sera l'assemblea pubblica è in programma al centro sociale alpino, domani negli spazi dei padri camigliani di Mottinello.